Sì, siamo rimasti a Roma e ci sono stati bravi aereo. Sì, sono stati bravi aereo. Perché fisicamente è anche bene, perché proprio all'ultimo nel tempo del repugno si è andato in avanti, hai trovato un calcio d'angolo, si, si, i giornalisti ci sono. Quindi sempre più dentro le persone. Sì, fisicamente è superiore perché mi allero bene. Sì, siamo tutti, siamo tutti i giornalisti. Non sono quello normale. Se ti allunghi bene, stai bene. Se ti allunghi bene, stai bene. Se ti allunghi bene, stai bene. Sei stato la costante di questo centrocampo. Prima in coppia con Riva, adesso in coppia con Zane. Quali sono le differenze? Per me ci sono differenze. Io mi trovo bene con tutti, anche l'altra volta te l'ho detto. Perciò per me è uguale. Che si arriva, Zane è uguale. Qui siamo una famiglia, non è che posso dire che sto bene con Riva. Sto bene con tutti. Senti, quattro vittorie consecutive, tante difficoltà. Nonostante questo, ci sono arrivati questi punti importanti che ti hanno fatto. Sicuramente dopo quattro vittorie di seguito siamo tutti felici, no? Finché si portai tre putti a casa è ancora importante. Ci sono un po' di apprensione.